direzione punta spanu giusto? eccola la vedo già gli scoglietti strani no com'è che dicevi che si chiamava? spano e io? spano ecco da daaaan eh spanu sito naturale protetto ea tribula human ea casco dove cosa poi c'è il cappellino che viene messo qua quella la catena la metti ombrellino borsina sono già 40 gradi no dai camminiamoci alla ricerca della postazione di oggi che è pienissima andarla giù forse e lì sugli scogli è grazie a tutti 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 Andiamo salendo alla cittadella di Calvi C'è questa gradinata dal parcheggio Adesso giro Ecco Poi la parte Si sale dal parcheggio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti